Siamo con Gennaro Scala, direttore generale del Torrino, ma anche e soprattutto una delle figure di maggiore esperienza nell'ambito del futsal femminile nel Lazio, ma non solo, possiamo dire. Ci puoi raccontare un po' quella che è la sua esperienza, il suo punto di vista su quello che è il calcio a 5 femminile nella regione Lazio? La mia esperienza parte proprio dall'inizio, dagli anni 88, che erano proprio gli albori del calcio a 5 femminile. Ancora non c'era la federazione di calcio FIGC, che si occupava del calcio a 5, ma bensì un'altra organizzazione, MSP, non so se qualcuno ricorda. Nel 90 iniziavano i primi campionati ufficiali. Io come esperienza posso dire che sono stato allenatore fino al 95, ho partecipato ai primi campionati di Serie C, all'epoca non esisteva ancora la Serie A. Si faceva una finale a fine stagione con tutte le altre vincenti delle altre regioni d'Italia. Ho lasciato nel 95, vincendo il primo titolo nazionale. All'epoca si disputavano le finali al foro italico. Dopodiché mi sono occupato più che altro di dirigenza per quanto riguarda le squadre che ho seguito, fino all'ultimo, attualmente il Torino, che partecipa stasera alla semifinale di calcio a 5 della Coppa Italia regionale. Ok, una piccola curiosità. Com'è il salto della barricata da allenatore a dirigente? Ma è chiaramente completamente diverso perché come allenatore tu vivi le situazioni, non solo le vivi ma le devi modificare in tempi brevissimi se vuoi ottenere dei risultati. Devi essere molto attento, molto psicologico. Come dirigenza è differente il discorso. Devi fare più che altro una sana gestione del gruppo, che ognuno rispetti il proprio vuolo, che ognuno faccia ciò che gli è stato assegnato. Quindi è completamente diverso. Ultima cosa, una curiosità inevitabile. Quali sono stati i mutamenti più profondi, secondo lei, nel calcio a 5 femminile, dagli anni in cui lei era sul campo o adesso? Ma diciamo che adesso si avviciniamo moltissimo al professionismo. Con l'avvento della Serie A nazionale, molte società, piuttosto che investire nei propri vivai nazionali, hanno cominciato a investire pescando all'estero, dove il calcio a 5 è molto più avanti di noi, portando in Italia atleti di grandissimo valore, però penalizzando leggermente le nostre atleti. Io la ringrazio.